Mentre stavano compiendosi i giorni in cui Gesù sarebbe stato tolto dal mondo, egli si diresse decisamente verso Gerusalemme e mandò avanti dei messaggeri. Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di samaritani per fare i preparativi per lui. Ma essi non volero riceverlo, perché era diretto verso Gerusalemme. Quando videro ciò i discepoli Giacomo e Giovanni dissero, Signora, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi? Ma Gesù si voltò e li rimproverò, e si avviarono verso un altro villaggio. Mentre andavano per la strada, un tale gli disse, Ti seguirò dovunque tu vada. Gesù gli rispose, Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. A un altro disse, Seguimi. E costui rispose, Signora, concedimi di andare prima a seppellire mio padre. E Gesù replicò, Lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Tu va e annuncia il regno di Dio. Un altro disse, Ti seguirò, Signore, ma prima lascia che io mi congeda da quelli di casa. Ma Gesù gli rispose, Nessuno che ha messo mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio. No, 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 Grazie a tutti.